Sarà celebrata domani a Sciacca la giornata mondiale del diabete. Dalle 9 alle 13 presso il centro commerciale Il Corallo di Contrada Perriera sarà possibile sottoporsi allo screening gratuito per la prevenzione del diabete, dell'ipertensione e dell'obesità. L'iniziativa, come ogni anno, è promossa dal diabetologo Saccense Michele Russo e dalla locale Associazione Diabetici presieduta dall'Illo Catanese. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione e prevenzione di una patologia che resta purtroppo assai diffusa e che, se non adeguatamente curata, può causare l'insorgenza di gravi complicanze. Faremo una serie di screening non solo per il diabete ma anche per l'ipertensione e per il peso. Domani ricorre questa giornata mondiale del diabete che è un'occasione per ricordarci a tutti che intanto nel campo della cura del diabete si sono fatti notevoli progressi, quale ad esempio la possibilità di avere a disposizione un sensore per il rilevamento continuo della glicemia per almeno 14 giorni e questo ci dà la possibilità di vedere le glicemie come si muovono, se noi raggiungiamo gli obiettivi, cioè non bisogna soltanto prendere dei farmaci per la cura del diabete ma bisogna verificare se le glicemie sono buone, se si raggiungono dei buoni valori. E questo ci permette anche, questo sensore ci dà l'allarme quando il valore scende al di sotto di 70, cioè quindi un valore pericoloso per la vita e questo ci dà l'opportunità subito di correggere eventualmente questo valore glicemico che va giù. Perché resta così alta l'incidenza di questa malattia a livello mondiale ma anche in Italia e dalle nostre parti? Allora, purtroppo il diabete tipo 2 è una complicanza dell'obesità e l'obesità purtroppo tra obesità vera e sovrappeso colpisce almeno 40-43% della popolazione quindi su 140, scusate, su 100 persone 43% sono o in sovrappeso obesi e questo espone a una serie di complicanze io dico sempre che l'obesità non è un solo, è un fatto estetico o quantomeno non è un fatto estetico ma è un fatto di salute pubblica perché l'obesità espone al diabete, all'ipertensione, all'ictus, all'infarto ha una serie di malattie tumorali chi è obeso più spesso fa il tumore della mammella, dell'utero, dell'ovaio, del colon retto, della prostata più può andare incontro alla penna notturna è esposto perché questo sovrappeso si scarica sulle artivazioni quindi all'artrose delle anghe e delle ginocchia quindi tutta una serie di un corteo di malattie estremamente serie che sono un peso e un'infelicità per la persona che ne è affetta ma anche una spesa importante per una sanità pubblica che purtroppo va sempre peggio obesità che va contrastata con i corretti stili di vita alimentazione, attività fisica non smetterete mai di ripetere queste cose il sovrappeso all'obesità quasi sempre è espressione di uno stile di vita sbagliato noi cosa dobbiamo fare per prevenire o curare l'obesità al di là dei farmaci che oggi ci sono anche per curare l'obesità grave innanzitutto incrementare l'attività fisica dobbiamo almeno mezz'ora ma più attività fisica facciamo meglio ma almeno mezz'ora al giorno di camminare la cosa più semplice se poi andiamo in palestra è ancora meglio ma la cosa più semplice che abbiamo imparato a riccola è camminare e poi uno stile di vita corretto dove gli alimenti che vengono dalla terra sono quelli che noi dobbiamo mangiare tutto ciò che viene dal regno animale questo ne dobbiamo mangiare poco nella giusta quantità